Dal concerto in piazza Plebiscito alle discoteche all'aperto sul lungomare, Napoli è pronta per la lunga notte del Capodanno 2017, una serata di festa ricca di eventi e di artisti che hanno scelto il capoluogo partenopeo per salutare l'arrivo del nuovo anno. Questa mattina in conferenza stampa alla presenza del sindaco De Magistris è stato illustrato il programma dei festeggiamenti che prenderanno il via a partire dalle 21 proprio dal palco in piazza Plebiscito. Ospiti gli stadio Tiro Mancino, Clementino, Franco Ricciardi, Valerio Iomine, Andrea Sannino, il coro della città di Napoli diretto da Carlo Morelli e la scuola di musica Camp Academy di Agnano. La serata sarà condotta da Pippo Pelo e dagli speaker Adriana e Max Giannini di Radio Kiss Kiss, sponsor dell'evento in occasione dei 40 anni dell'emittente. Si preannuncia un Capodanno strepitoso come programma e immagino come partecipazione, un Capodanno che comincia da piazza Plebiscito con tantissimi artisti che ringrazio perché è veramente un programma ricchissimo. Poi avremo i fuchi tradizionali e molto belli a Castel dell'Ovo, 5 palchi tra il Borgo Marinario e Nalbero con musica la più variegata dagli anni 70-80, hip hop, musica house, musica contemporanea. La più grande discoteca all'aperto d'Europa, ci aspettiamo un fiume di napoletani, di turisti, insomma quella che sta rappresentando Napoli ormai come una continuità da alcuni mesi. Una città piena di gente per strada, che vuole vivere la città, che vuole sconfiggere ansie e preoccupazioni che ci sono nel mondo perché si vive un momento molto difficile, soprattutto dopo la tragedia di Berlino, ma non solo quella di Berlino. Napoli vuole dimostrare di essere una città che punta tutto sulla cultura e sul turismo, sulla creatività e l'energia della nostra città. A partire dal 1 e mezza il capodanno napoletano prosegue sul lungomare, l'appuntamento più atteso e con i suggestivi fuochi d'artificio dalle terrazze di Castel dell'Ovo, via poi alla nottata danzante con 5 palchi allestiti da via Caracciolo a via Nazario Sauro. Per tutta la notte di San Silvestro funzioneranno non stop la linea 1 metropolitana e le funicolari di Chiaia e Montesanto, aperti anche gli infopoint per l'acquisto dei biglietti e di parcheggi di interscambio. Siamo molto contenti, un grande sforzo anche istituzionale del Comune di Napoli e di tutte le altre articolazioni istituzionali, tanti volontari, di Radio Chiss che ha dato un contributo importante. Penso che ci sono tutte le condizioni per avere un grande successo il 31 dicembre, il primo dell'anno, che poi chiuderemo anche con due concerti importanti in quartieri meno centrali della nostra città, fuori Grotte a Scampia, dove ci saranno due concerti di primo anno.